Ciao amici! Ciao amici! Io sono Cata! E io sono Jim! E questa è Spicy Life! E questo cosa ha? Sì! Mamma San Pork Noodle! Questo è un ricordino che abbiamo portato dalla Tailandia. Noodle essiccati dove trovessi l'acqua bollente, tutte le specchie, dentro c'è la porchettina e ti fai la tua cena e il tuo spuntino. Noi li mangiavamo in Tailandia tipo alle 4 del mattino davanti ai 7-eleven. Saliva la fame improvvisa! E lì è bello perché questi negozetti a parte di 24 ore tu puoi comprare tutto quello che vuoi. C'è l'acqua calda, ti fai cucinare lì tutto quello che vuoi. Intanto nel noodle che vedete qui abbiamo aggiunto il porco essiccato. Amore! Il porco essiccato mi chiami? Adesso aggiungiamo questa salsina! Non so identificarlo precisamente cos'è questa cosa. Ciao! 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 Lei mi dice ciao! La nostra gattina affamata! Miau! 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 Ma in poche parole la sfida in cosa consiste? Dovremmo mangiare il più velocemente possibile. Cioè il più veloce vince. L'acqua bollente con il brodino. Brodino piccante, in noodle senza esplodere perché è bollente. Il peroncino che è piccantissimo tutto tutto. E ci ho messo? E soprattutto tu. Soprattutto l'ultimo. Si fa 10 belle fessioni. Subito dopo aver mangiato questa genizia. Sì. Ok. Adesso aggiungiamo lo spicy! Come spicy life! Nanananana.. Tu tu mi fai.. La cosa bella, è che ti danno anche la.. Incomoda! Mettiamo dentro? Buttiamo l'acqua bollente, stessa misura per non dire che vogliamo.. Mescolatina, mamma mia bisogna aspettare un attimo che il mio vero si reidrati, no? Oddio! Si sta ribellando! Ma prendiamo un cappuccino a ritardo? Mai! Abbiamo fatto il disastro! La facciamo bella! Aggiungiamo dell'altro peperoncino piccante! No, perché voglio capire questa quanto era piccante! Ah, perché? Hai capito! In realtà, in Telandia non costano niente, 20 centesimi! Tu 20 centesimi ti fai... E sono buoni! Dopodiché ti bevi l'inferno ghiacciato perché... Sono peperoncino, ma sono buoni! Ti fa buon profumino, oddio! Però... I miei gatti adorano il piccante, vero? Oh, i vapori di peperoncino a tana! Ma come piacciono a me! Io ci sono! Cominciamo! Ciao! Chi fa per me? Via! Allora... Però... Andiamoci piano! Sì, sì! Ovvio! Dai, non dobbiamo... No, deve essere un gioco! Al 5 eh? Dai, su 10 questioni, vai piano! Al 5 eh? La posizione di partenza deve essere questa! Non vale aver già fatto il boccone! Stronto! L'aveva già preparato! Al 5 eh? Mi fa imbrogliare! Mi fa imbrogliare! Al 5! 5! Mi fa imbrogliare! I sbagliare! Scusa! Sto un po' arrancando Problema arriva dopo Problema arriva dopo Tengo il suo ojo Lo sentino Pausa Me sta fumando Me sta dando un papo il cervello Finito Bugia Che cavolo Hai vinto o non me lo finisco Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Ragazzi se questo video vi è piaciuto Intanto che lui finisce la sua porzione Mettete un mi piace Condividete con i vostri amici Così vedono che c'è gente messa peggio di loro Andiamo a fare le flessioni Adesso andiamo a fare le flessioni Perché io non dimentico Ragazzi io sono pronto Vai Emanue Una Due Tre Cinque Sei Otto Nove Dieci Un'altra per la gloria Ragazzi è stato bravissimo Ragazzi Ragazzi Mi come minimo Dovete condividere 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 E mettere mi piace Ma tu Tu non sei ancora iscritto al nostro canale Che cosa stai aspettando Altre dieci flessioni Iscriviti Se arriviamo a quanti mi piace Faccio altre dieci flessioni A cento Cento A cento Faccio altre dieci flessioni A duecento Le fa lei Duecento 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 Alla prossima Ciao Dai fammi vedere un'altra Dai un'altra Per la gloria E per Spassi dai Dai Una No una tu Una Una Grande A 200 Lei Ok Ok